Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo aver visto ieri i primi tre tots, quelli che diciamo erano un po' i deludenti della situazione, quelli esclusi della classe, oggi passiamo finalmente a un po' di note liete perché andiamo a guardare tre giocatori che mi hanno colpito, anche se su uno devo andare ad aggiungere qualche commento perché secondo me è un po' troppo aipato in senso positivo, ma andrebbe guardato un pochino meglio. Quindi come al solito ci andiamo a vedere il primo recap statistico e poi ci spostiamo in game dove abbiamo tutta una serie di belle clip registrate su questi giocatorini qui. Primo giocatore che andiamo a guardare è Frankie de Jong, questo è veramente pazzesco, un metro e ottanta, normale alto, 4-4 piede destro. Un giocatore che costa sì tanto ma va sicuro ragazzi, ve lo ritrovate veramente in qualsiasi parte del campo, è molto rapido, ha anche un ottimo tiro e lo vedremo insieme ragazzi, vi assicuro questo qua è una risorsa soprattutto quando ve lo ritrovate più o meno sui 20-25 metri, potete tirare delle mine soprattutto a giro che sono una meraviglia. Ha dei passaggi che non ve lo sto neanche a dire. Agilissimo, nello stretto controlla benissimo il pallone, infatti si vede, è reattivo, ha un ottimo dribbling. C'era qualcuno che si interrogava sul fatto che potesse avere delle statistiche difensive fake, vi assicuro che non è così. Fa un sacco di intercettazioni automatiche, infatti quel 97 si sente tutto ed è anche un metro e ottanta, quindi non è propriamente un giocatore insomma piccolino, no? All'interno del centrocampo ha un'ottima lettura difensiva, ottimo contrasto, infatti recupera benissimo il pallone e anche questo lo andremo a vedere. Ha anche un'ottima aggressività, di fatti si attacca bene all'uomo anche quando questo magari si gira e si gira su se stesso con i micromovimenti, rimane bene a contatto con la possibilità poi di intervenire, quindi De Jong, nonostante il prezzo, che comunque è un prezzo voglio dire elevato, ma perché insomma è elevato in ragione di quello che è il valore reale del giocatore, per me è il must have all'interno di questo Toz di Liga, probabilmente l'unico giocatore che vedremo impiegato tantissimo insieme forse anche a Varane, anche se vi ripeto l'impressione che ho avuto di Varane non è stata quella di fenomeno totale, anche all'interno di quelli che sono i prossimi tornei che si andranno a disputare i vari playoff eccetera eccetera, questo sicuramente sarà titolare nei vari centrocampo. Già so le domande, è meglio lui o Bruno, è meglio lui o De Bruyne eccetera eccetera, vi dico rispetto a De Bruyne lo trovo superiore in quanto più agile e anche levemente meglio in fase difensiva, un po' meno magari in fase offensiva perché non ha alto, alto, rispetto a Bruno Totti se la vanno a giocare, superiore sicuramente rispetto a Bruno Toz che ha avuto un downgrade a livello di statistiche difensive, quindi De Jong tanta roba, se gli dovessi dare una votazione gli dare sicuramente un bel 9 pieno, perché 10, perfezione, è difficile. Marco Siorente è il giocatore in cui avevo riposto aspettative molto alte, le quali sono state soddisfatte ma, e ma vi dico perché ma, perché parliamo di un giocatore di 1,84m alto-alto, ma appunto ha 3 di skill e 3 di piede debole, e questo l'ho limitato tantissimo in mezzo al campo, non potete fare un tacco-tacco fatto bene, non potete fare una crocchetta fatta bene, capita che quando la palla va sul piede sinistro vi sbaglia degli appoggi molto molto facili, poi per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo è sicuramente uno dei fattori che più spinge in alto questa carta, perché non dico che è regalata, ma quasi. La velocità in game, secondo me, non è quella che appare sulla carta, passaggi, come vi dicevo, se fatti col piede sinistro scordatevi, quegli attributi perché capita che sbaglia un sacco di passaggi, a livello difensivo parliamo di un bellissimo giocatore, tanti interventi automatici, tanti autoblock, sta sempre sulla linea di passaggio, è aggressivo, ha forza, recupera bene i palloni, affonda ottimamente i contrasti, quindi sicuramente queste sono le note liete, ma, come vi dicevo in precedenza, tutti quei fattori che vi ho menzionato, insomma, non lo rendono un fuoriclasse, secondo me, e in più il fatto di essere un giocatore comunque di un metro e ottantaquattro, non così agile, io vi assicuro che alle volte mi sono trovato in situazioni in cui con questo Llorente avevo bisogno di girarmi e rigirarmi su me stesso per cercare gli spazi e non potevo minimamente farlo, anzi, macchinoso, quando porta palla tra i piedi e soprattutto cerca spazi, è capitato che perdessi veramente tante palle quando mi affidavo a Llorente in fase di impostazione, quindi, se gli dovessi dare un voto, gli darei un 7 pieno, ok? Soprattutto per quello che riguarda la difesa e il rapporto qualità-prezzo, perché diciamo che non è un factotum, ok? Perché tutti questi piccoli dettagli lo vanno un po' a penalizzare, però parliamo comunque di un giocatore sicuramente valido, però se me lo dovete paragonare a un Renatino, preferisco Renatino, a Bruno, preferisco Bruno anche il Pot, preferisco probabilmente anche Valverde, che comunque essendo un po' più bassino si gira e si rigira meglio, difende comunque bene ed è anche un 3-4 rispetto a Llorente che è un 3-3. Però, ripeto, il rapporto qualità-prezzo è sicuramente la cosa che più lo spinge in alto e se avete bisogno di un giocatore di questo tipo, spagnolo, in liga, o per le vostre squadre per linkare, sicuramente potete utilizzarlo. Veniamo alla nota di sorpresa totale, Luisito Suarez, che giocatore! 1,82m, 4-4! Io ero spaventato, perché con avere, appunto, quest'anno giocatori senza la quinta skill è problematico. Ma sto Suarez qua, nonostante abbia pure 94 di forza, ma come si muove bene nello stretto? Ma come fa bene i movimenti come il tunnel direzionale? Ma tira delle catose, delle mine, ma soprattutto di Mancino, che sembra quasi un 5 di piede debole. E poi che ve lo dico a fare? Tiene un tiro a giro, raga! Spaziale! Mi è capitato di fare delle conclusioni a giro veramente incredibili con questo giocatore qua. Mi ha rimandato un po' alle vibes del Totti di FIFA 17, se ve lo ricordate, che rimane per me l'attaccante più forte che ho mai usato su Anyfoot, vi giuro, illegale quel Totti di Suarez su FIFA 17. Ma questo qua è veramente un bellissimo attaccante. Probabilmente è l'attaccante migliore al momento che si trova in liga, proprio no contest, escludendo, vabbè, ovviamente Messi, che è più una seconda punta. Questo può fare benissimo sia la prima che la seconda punta, ma anche il C.O.C., perché ha dei passaggi, anche dei filtranti, veramente top. Quindi, questo Suarez mi ha impressionato. L'unica nota dolente è il prezzo, perché secondo me il prezzo è un po' altino per un giocatore di questo tipo. Secondo me un prezzo onesto è più o meno quello di Benzema. Quindi sugli 8-900 prezzo Xbox è proprio il prezzo di questo Suarez, che, ripeto, a me è piaciuto veramente tanto. E, insomma, tra lui e Benzema non c'è minimamente storia, 357.000x questo Suarez. E ci andiamo a vedere subito un po' di clip di gioco, a partire proprio da Frankie De Jong, quindi andiamo in ordine di come li avete visti anche in game. Qui vedete subito l'aggressività di De Jong, che lo porta immediatamente a contatto con il portatore di palla avversario, per recuperare questo pallone, lanciare Suarez con i tempi giusti e anche, insomma, la precisione giusta, perché questo passaggio non era facile. C'era l'uomo davanti, ha dovuto farlo da esterno e calibrarlo in maniera tale che Suarez andasse anche a concludere. Non era facile. Io qua poi, vabbè, visto il risultato, vado a cercare lo scavetto con Suarez. Potevo fare un tacco-tacco, tirare di sinistro e segnare. Però, insomma, avete visto come De Jong sia stato efficace nel recupero. Guardate qui, lui riceve palla su Pelé, cerca immediatamente di servire il suo Mbappé. De Jong era già lì pronto a intercettare il pallone, avendo capito quelle che erano le intenzioni dell'avversario. Infatti recupera ottimamente il pallone, vedete, in maniera automatica. Guardate qui al limite dell'aria, invece. Proprio l'agilità palla al piede di cui vi parlavo in precedenza. Guardate come col tunnel direzionale prende benissimo campo, arriva ancora una volta bene nello stretto, suola, tiro. Incredibile questa sequenza. Penso sia una delle azioni migliori che abbia fatto con questo De Jong. Che, appunto, vi ripeto, sia in fase offensiva che difensiva, è assolutamente incisivo. Qui, ancora una volta, ottima intercettazione sulla linea di passaggio. Qui, però, l'avevo anche selezionato io per, insomma, fare anche il contrasto, se invece avesse continuato a portare palla al mio avversario. Qui, quello che vi dicevo in precedenza. De Jong al limite dell'aria, senza fare nulla, suola per apparecchiare la conclusione, niente di niente, tira a giro nell'angolino, non è Insigne e Frenkie De Jong. Veramente sul tiro a giro una sequenza lodevole che mi è capitata di fare più volte, una costante nel gioco di De Jong. Qui, ancora una volta, palla dentro verso De Jong, che, guardate qua, rimane benissimo a contatto, a canzello davanti, si ingira in un fazzoletto, tacco, tacco, per apparecchiarsi la conclusione, è precisa poi nell'angolino andare a mettere un'altra rete a bersaglio. Qui, ancora una volta, in fase difensiva, Renato Sanchez va a cercare il suo compagno, iniziamo a vedere le sequenze di gioco di Llorente, che, guardate, dopo che io l'ho deselezionato, ha continuato la sua corsa e si è andato ad attaccare a Kimmich, questo proprio a fronte di quella che è la sua aggressività, e recupera ottimamente il pallone in questa giocata. Ancora una volta qui, era già pronto sulla linea di passaggio, senza che io avessi fatto nulla, di fatti stavo controllando De Jong, e Llorente va a recuperare ancora una volta il pallone alla grandissima, sotto questo punto di vista qui, e addirittura poi si va ad innescare il contropiede, con Suarez, che va a servire ancora una volta a Frankie De Jong, palla dentro verso Luisito Suarez, e qui iniziano anche un po' di assaggi di quello che è Suarez all'interno dell'area di rigore. Qui vedete con questo tiro a giro sul secondo palo preciso, da una mattonella interessante. Queste sono invece le skill che vi dicevo in fase di impostazione, quindi in cabina di regia di Suarez. Guardate Benzema che va, qui filtrantone con i tempi giusti addirittura di mancino, e addirittura di esterno, a servire la corsa di Benzema, che poi insomma rovina tutto con questo pallonetto sul palo, come vi avevo detto in precedenza nel video di ieri, insomma Benzema un po' ambiguo. Qui ancora una volta, palla dentro verso Dalglish, cerca un po' di movimenti, Benzema recupera il pallone, vede poi Suarez. Suarez guardate qui, nello stretto si gira benissimo, parte con un doppio passo, per andare a creare un po' di divisione tra sé e il difensore, si butta dentro, e finalizza perfettamente con il piede destro, a punire l'uscita di Schmeichel. Ancora una volta qui, palla verso Suarez, più o meno un pelino fuori dall'area di rigore, tacco tacco, e saracca di sinistro, raga, questa giocata qua, col tacco tacco e il tiro di sinistro, è stata una costante, veramente top, questo tipo di movimento. Ancora una volta, guardate, addirittura qua, finta di tiro di prima, e altra mina di sinistro sul primo palo, con sto Suarez, che è veramente infermabile in fase di finalizzazione. Qui, buona la sequenza, vi voglio far vedere un po', quella che è la sua agilità, guardate nello stretto come si muove bene, rispetto a Benzema, che era impacciatissimo, ve l'ho fatto vedere ieri, qui, poi vabbè, bravo Sergio Ramos a chiudermi, però insomma avete capito, quello che volevo farvi vedere. E poi il tiro a giro, il tiro a giro di cui vi parlavo in precedenza, guardate qua, puff, nell'angolino, non è in signe, anche in questo caso, neanche De Jong, ma è Luis Suarez, bellissima giocata. Come vi dicevo, anche nei movimenti, tunnel direzionale, si libera benissimo, arriva davanti al portiere, carica una mina di destro, e la butta dentro, questo addirittura è stato il primo gol col quale mi si è presentato ieri, quindi, ricordo, ero particolarmente fogato dopo questa rete. Quindi, recappone, per quanto riguarda De Jong, un furetto del centrocampo, il metronomo, sia in fase offensiva che difensiva, voto 9, Llorente, voto 7 di stima, per la difesa e per il rapporto qualità-prezzo, perché in fase di impostazione non mi è piaciuto, Suarez, voto 8, veramente un bellissimo attaccante, peccato che sia un 4-4, non un 5-4, un 4-5, soprattutto un 5-4, visto il meta di quest'anno, ma veramente una piacevole sorpresa, nota un po' dolente il prezzo, che secondo me è un po' altino. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, se avete provato questi giocatori, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, un bel like, in descrizione tutte le info per le live giornaliere, sulla piattaforma viola, a me non resta altro che salutarvi, vi auguro una buona giornata, ciao!